Ciao a tutti gli amici cinofili e proprietari di cani del Il Mio Cane Parla Oggi mi è stato inviato un video che sta spopolando su Facebook di due cani che si azzuffano Mi è stato chiesto di commentarlo per dirvi che cosa io veda di questa situazione Allora partiamo subito Allora qui vediamo un border collie che parte all'attacco contro un dogo argentino Il dogo argentino dopo un momento di sbandamento mette sotto il border collie Normalmente si crederebbe che questa è dominanza In realtà questo dogo argentino ha una forza, un'autostima pazzesca Tanto da riuscire ad essere molto dosato nel morso Ha bloccato il cane, il border collie affinché si calmasse Come vedete adesso si sta sincerando della serie Te sei calmato? Tutto a posto? Sì? Bene, possiamo annà Ecco il border collie sicuramente ha ricevuto una lezione di vita che si ricorderà per sempre È sicuramente una bellissima scena, molto istruttiva e sicuramente i proprietari, gli addestratori che hanno fatto questo lavoro hanno un'ottima conoscenza dei cani Perché mettere un dogo argentino in questa situazione potrebbe essere molto rischioso Questo è un dogo argentino assolutamente equilibrato Quindi riassumendo abbiamo un border collie con evidenti problematiche di comunicazione e interazione con gli altri cani Non sappiamo se l'ha generalizzato a tutti i cani o se lo fa solo con i cani da una certa taglia in su Fatto sta che ha un approccio molto sconveniente Col cane sbagliato questo border collie rischia di essere fatto fuori O comunque di essere mandato al pronto soccorso a farsi mettere dei puntini Quindi per i sostenitori di lasciali fare che tanto si aggiustano Attenzione, ci vuole il cane giusto per fare questa roba qua Altrimenti sì, i cani si aggiustano ma nel loro modo di aggiustarsi è anche contemplata l'uccisione del rivale Il dogo argentino invece è un cane forte Nel senso non fisicamente, ha proprio una personalità forte Al punto che riesce a non esagerare Si limita soltanto a bloccare e calmare l'altro cane E quando l'altro cane recepisce il messaggio non ha alcuna intenzione di andare oltre, di esagerare Quindi in questo caso si può parlare di cane dominante Io parlerei di cane forte, forte in tutti i sensi Ma non limitiamoci a vedere solo quello che è successo in grande Andiamo a vedere i dettagli Intanto notiamo il border collie che arriva alle spalle del dogo argentino cogliendolo di sorpresa Si avventa sulla groppa, vedete, vorrebbe prendere la collottola, quindi l'intenzione non è il massimo Il dogo argentino cade anche, quindi poteva anche farsi male Poi qui il dogo fa il necessario per calmare il border collie Ma a vedere dalla faccia, gli occhi, anche se il video non è di ottima risoluzione, sembra un po' avanti con l'età Adesso guardate la zampa destra anteriore del dogo Vedete non l'appoggia, quando cammina zoppica, quindi questo cane ha male la zampa destra Vedete che la tiene sollevata, guardate quando cammina tac, fa proprio un passetto più veloce dell'altro E qui bisogna chiedersi se avesse già male prima o se si è fatto male durante Ad ogni modo bisogna stare molto attenti quando si fanno queste interazioni Adesso possiamo vedere che fa la pipì e poi guarda subito l'altro cane Diversamente a come si potrebbe pensare, questo è un marcaggio di dominanza Molto probabilmente invece è un marcaggio di calma Una pipì fatta per calmare l'altro cane Si è appena scrollato, quindi ha mandato via la tensione Riflessione finale, questa interazione è servita? Sicuramente sì, il border collie si è portato una lezione a casa È che quantomeno la prossima volta che vedrà un cane o un cane di taglia grossa Ci penserà due volte prima di fare delle cazzate di questo tipo L'altra domanda che mi faccio è Era necessario? Era l'unico lavoro possibile? No, ci sono lavori che si possono fare attraverso l'aiuto dell'uomo Che sicuramente richiedono più di tempo rispetto all'efficacia che ha avuto l'interazione con il dogo argentino Ma la domanda finale, quella che proprio io mi faccio perché non ho altro a cui pensare è Il dogo argentino aveva voglia di dare questa lezione al border collie Era di spalle, zoppica, probabilmente avanti con l'età E quello che ha fatto normalmente quando gli educatori, gli addestratori hanno un cane teacher Si pensa che il cane teacher abbia sempre voglia di insegnare agli altri Ma ci sono cani teacher e cani teacher, ci sono i cani che hanno proprio voglia E seguono i cani che hanno bisogno di un aiuto e si vede proprio che lo fanno con devozione E ci sono cani, come a me sembra in questo caso, che lo fanno solo ed esclusivamente per salvarsi la vita Perché non gli vengano rotte le palle Quindi questo dogo che probabilmente aveva già i suoi problemi a cui pensare Forse non ne aveva così tanta voglia Ma giudicare questo da un micro video è difficile Sono solo dubbi che sollevo per poterci riflettere Detto questo ci vediamo domani con un altro video su un lavoro che ho fatto proprio ieri Su due cani che vivendo nella stessa casa volevano sbranarsi E poi ci vediamo alla diretta di domenica Ciao a tutti